Siamo in ok. Buonasera a tutti, benvenuti nel nostro secondo incontro, secondo workshop, dal titolo SOS greco, guida pratica alla preparazione della seconda prova. Oggi siamo qui sempre con Cristiana Caserta, che per chi non la conoscesse tra un attimo si presenterà, se la volta scorsa non era presente, per questo secondo appuntamento dal titolo del testo greco al convento retorico-stilistico. Abbiamo introdotto nel nostro primo incontro la seconda prova di greco che è recentemente stata cambiata, quindi è nuova per la maggior parte di voi, immaginiamo, e sulla quale Cristiana ha costruito un percorso di attività volte a preparare i nostri ragazzi al meglio per questa seconda prova che appunto quest'anno è focalizzata sul greco. Io sono Michela Redolfi, sono una linguista del team di linguistica di FEM, e oggi sono qui soltanto come moderatrice perché l'esperta è Cristiana Caserta, alla quale lascio subito la parola così si può presentare per chi altra volta non fosse presente, se vuoi anche farci un breve riassunto della puntata precedente, magari per chi non avesse potuto partecipare, almeno, insomma, inquadriamo dove siamo arrivati e da dove siamo partiti. Senz'altro, grazie Michela. Io mi chiamo Cristiana Caserta e sono una docente di latino e greco nel liceo classico, naturalmente. Ho accolto con piacere e con grandissimo entusiasmo l'invito a tenere questi workshop perché mi sembra che ci sia proprio un'urgenza che viene anche dallo stato d'animo dei nostri studenti che riguarda proprio la seconda prova del liceo classico, cioè la traduzione dal greco. La traduzione dal greco sappiamo che anche, diciamo, anche se non ci fosse lo spettro della seconda prova, sappiamo che è un tipo di esercizio molto difficile da fare in classe, di cui trovare la giusta didattica, di cui, insomma, verso la quale stradare con successo i nostri studenti per le difficoltà oggettive che presenta la traduzione dal greco, ma anche per una serie di metodologie che noi possiamo però utilmente implementare e integrare con quello che la tecnologia ci offre. E vi vado proprio, ecco qua, questa era la mia breve presentazione. Oggi andiamo proprio, infatti, a cercare di potenziare un po' le competenze, di capire come potenziare le competenze testuali, interpretative, traduttive, proprio partendo dall'osservazione ragionata del lessico. Una cosa che noi, è un tipo di attività che noi spessissimo richiediamo ai nostri alunni, ma che sappiamo bene, quella di osservare la traduzione, di osservare il testo greco, di leggerlo in modo approfondito, in modo focalizzato, ma che sappiamo bene che poi, nel momento della prova, della performance, i nostri studenti spesso non fanno. E poi anche potenziare le competenze di analisi del livello argomentativo e retorico-stilistico. Perché è questo? Perché sappiamo bene che nella seconda prova, per come è stata, insomma, impostata, anche se negli anni scorsi non è stata poi fatta, a seguito delle vicende che tutti sappiamo della pandemia, quindi quest'anno si ritorna un po', si ritorna a quello che doveva essere il progetto originario, e sappiamo che poi è richiesto un commento e quindi che presuppone un'analisi stilistica, retorica del testo da tradurre, del testo tradotto. Qual è un po' il problema, proprio in grandissima sintesi? Il problema un po' della pratica della traduzione del greco nel liceo classico è quello che i nostri studenti concepiscono spessissimo la traduzione come un prodotto e quindi l'ansia di produrre la traduzione da consegnare alla meglio, spessissimo, su quei meccanismi anche semplici di inferenza, di logica, che sarebbero tranquillamente attuati se non ci fosse lo spettro della traduzione da consegnare. Invece noi quello che possiamo fare è riportare un po' i nostri studenti a considerare la traduzione proprio come un processo, con delle fasi ben precise e ben scandite. Questa scansione delle fasi è più semplice se noi pensiamo di farla con l'inda. Quello che noi vediamo durante le versioni, non so se a voi capita, a me capita spessissimo in classe, è un po' l'ansia degli studenti che si traduce spessissimo in uno uso compulsivo, io qua scrivo, è irrazionale del vocabolario, si finisce per cercare parole cercate mille volte e che sicuramente i ragazzi conoscono. Le tecnologie digitali possono aiutarci a far sì che possono essere scandite dalle fasi ben precise e una di queste fasi importantissime è proprio quella della lettura molto accurata. Creare una routine di annotazione del testo, che è proprio quello che andremo a fare. Una routine di annotazione del testo finalizzata a cosa? Non tanto a tradurre, a produrre subito un testo scritto che sia la traduzione, quanto a comprendere il nostro testo prima ancora di tradurlo. Quindi lettura intensiva, abbiamo visto nel workshop precedente come proprio avviare questa lettura intensiva, cosa chiedere, quale tipo di attività si possono fare sul testo prima di tradurre. E quindi in una fase in cui il vocabolario non deve essere consultato soltanto il minimo, indispensabile, proprio per sciogliere degli eventuali dubbi. Una fase che può durare anche mezz'ora. Il testo su cui ragioniamo oggi invece è un brano di Aristotele che parla dell'amicizia. Io qui ho inserito la traduzione in modo tale che noi possiamo fare l'attività senza avere, come dire anche noi, il pensiero al tradurre, a trovare, a produrre anche noi un testo. Possiamo metterci in un'ottica di maggiore tranquillità e quindi ragionare un po' su questo testo che parla dell'amicizia. Ho scelto il testo proprio perché parla di un argomento che per i nostri studenti è significativo, importante, interessante. E si parla proprio del se il saggio debba avere o meno degli amici. Se l'ideale di autonomia, autarchia del saggio sia un impedimento all'amicizia o no. Aristotele ovviamente pensa di no. Non si deve levare al saggio l'opportunità di riversare la sua saggezza su gli amici. E quindi vi ho inserito qui la traduzione e ora andiamo a vedere un po' le fasi dell'attività. Allora, qui vi ho messo uno schema un po' generale di tutte le attività che possiamo fare. Sapete un po', penso di sì, Michela mi confermi, che c'è una, diciamo, sappiamo un po' come funziona l'INDA, però insomma per chi si fosse soltanto in questo workshop collegato, diciamo che l'INDA funziona in questo modo. e lo vedrete fra poco. I nostri studenti avranno, come noi andremo a fare, avranno una schermata in cui c'è un testo e su singole parole o porzioni di questo testo devono andare a inserire delle etichette colorate che l'insegnante ha predisposto in precedenza. e quindi io già ho ideato e sono andata a dettagliare queste etichette che poi dovranno essere applicate al testo. Potete servirvi di scenari già fatti, come questo che io ho fatto, oppure l'insegnante poi può decidere di cambiarlo, di usare altri testi, altre etichette. Le etichette che io ho previsto per l'analisi di questo testo, ricordiamoci che noi lo presenteremo in lingua originale, naturalmente, i nostri studenti, io ho previsto quattro attività. Quattro attività che vanno, come nel titolo del nostro workshop, si diceva proprio dalla lettura del testo e quindi dall'analisi del lessico usato al commento retorico-stilistico. Quindi manca tutta la parte centrale di attività che è quella di analisi morfologica e sintattica. Questo l'ho inserito in un altro scenario, ma non la vieta che le cose siano, che invece si propongano i due scenari intrecciati fra loro. Ora vi spiego meglio. Allora, una prima attività che io pensavo potesse fare su questo testo di Aristotele è quella di individuare il lessico e i campi semantici del testo in lingua. Lo presentiamo in greco, appunto, e i nostri studenti potranno andare a identificare questi tre campi semantici che a me è sembrato di poter, appunto, che fossero i più significativi. Tutte le parole, per esempio, afferenti al campo semantico della felicità e dell'infelicità, tutte le parole afferenti al campo semantico dell'amicizia, ho messo anche le radici, e tutte le parole afferenti al campo semantico del bene. Quindi, che tipo di attività viene richiesta in questo caso allo studente, a chi ha davanti il testo? Di leggere il testo più volte, in modo, con attenzione, con concentrazione, per cercare tutte le parole che sono afferenti a questo campo semantico. Naturalmente, in questa prima fase, vi dicevo, si potrà usare il vocabolario, come dire, soltanto per andare a fare dei controlli mirati. Quindi, il meno possibile. Ecco, qui si deve ragionare proprio sulle parole e cercare di rintracciare tutte quelle parole che hanno a che fare con queste, che possono rientrare in questi tre campi semantici. Quindi, qui è l'insegnante che già individua i campi semantici e gli studenti devono andare a etichettare le parole che afferiscono a quei tre campi semantici. Questo nell'ottica di, appunto, instaurare una routine di annotazione che poi possa portare gli studenti, invece, a essere autonomi in questo e a essere loro a trovare i campi semantici nel testo. Ecco qui, vi faccio vedere l'etichetta che io già ho apposto alle singole parole e in cui sono andata a identificare, appunto, tutte le parole, vedete, in blu, che hanno a che fare con felicità e infelicità e che sono, insomma, abbastanza alla portata della conoscenza dei ragazzi, degli studenti di quinto anno. sono eudaimonia, eutuchia, atuchies, eccetera. Vedete, le ho segnate quasi tutte, almeno tutte quelle che io sono riuscita a rintracciare, naturalmente. Poi, tutte le parole afferenti al campo semantico dell'amicizia, radice fil o dell'estraneità. Questo è un po' più difficile che i nostri studenti possano individuare che otneion sono gli estranei, otneion e tutto. Però potrebbe essere, possiamo poi naturalmente avere un momento di confronto, di restituzione in cui chiariamo quali altre parole eventualmente non siano state trovate. E poi, come vedete, dappertutto c'è in questo brano il bene, le parole afferenti al campo semantico dell'bene, eutuch, un po' dappertutto, i beni da ogni parte, e il bene da ogni parte. Quindi questa prima attività è finalizzata a trovare un po' quali sono i campi semantici che mostrano un maggior numero di ricorrenze nel nostro brano. Questo ci serve a, come dire, a entrare un po' nell'argomento, in quello che si sta, quello di cui Aristotele sta parlando. Andiamo all'attività numero due. E torno un attimo allo schema generale. Allora, attività numero due. L'attività, questa attività è preliminare alla traduzione. Poi, o nell'ambito della stessa attività, diciamo, della stessa giornata, nell'ambito dello stesso unità oraria, o si procede a far tradurre effettivamente la versione, oppure, e quello è un altro scenario, sempre sullo stesso, con lo stesso testo base, oppure io pensavo che da questa fase iniziale, poi, noi possiamo dare ai ragazzi la traduzione per farli esercitare, con le attività due, tre, quattro, sulla parte del commento. Cioè, dividere, pensavo che potesse essere utile, l'ho sperimentato anche in una mia classe ed è stato utile, fare così, non procedere a far allenare, per così dire, la classe, anche perché non abbiamo la possibilità spessissimo di avere sei ore a disposizione. Quindi non di farli esercitare su tutto quello che poi sarà oggetto di seconda prova, quindi traduzione e commento, ma di farli esercitare separatamente sulla traduzione e sul commento. Però mi sembrava utile, interessante, che anche quando li facciamo esercitare sul commento ci sia un momento iniziale, questa attività iniziale di 15-30 minuti, in cui si ragiona sul lessico. Quindi io l'avevo organizzata in questo modo. Un momento in cui si ragiona sul lessico, e quindi sul testo in greco, in lingua originale, poi dando la traduzione si comincia a ragionare invece sugli aspetti retorico-stilistici, per così dire, argomentativi più che retorico-stilistici. Quindi spero che questa mia idea risulti chiara e sia soprattutto utile, sia da un punto di vista di gestione dei tempi, sia dal punto di vista di fase e di metodo con cui approcciarsi al testo. Quindi l'attività 2, infatti vedete che qui ho scritto comprensione, interpretazione e confronto fra testo in lingua e testo in traduzione. Quindi qui si presuppone che i ragazzi abbiano già fatto la loro traduzione. Se invece decidiamo, come io ho pensato, di dividere in due attività, qui diamo proprio loro la traduzione. E andiamo a questa attività numero 2. Ecco qui, attività numero 2. Qui si chiede di etichettare le tesi confutate da Aristotele e le tesi invece sostenute da Aristotele. Cioè, Aristotele, cosa va a confutare? È il campo che io ho segnato con il campo dell'autopon. Cioè, è strano, inizia così Aristotele. Sembra strano che, insomma, è poi da spazio alle tesi che lui non approva, non approva, non apprezza e invece successivamente ci sono quelle, le tesi sostenute da Aristotele. Qui vedete come in verde ci sono quelle non da lui sostenute e in questo colore arancione e rosa ci sono invece le sue tesi. Questo, naturalmente, questo vi dicevo, è un tipo di lavoro che va fatto con i due testi, confrontando i due testi. Cioè, testo in originale e testo in traduzione. Perché, naturalmente, il commento va fatto sul testo già tradotto. E sul testo, possibilmente, tradotto anche in modo corretto. Se no, è difficile commentarlo. Quindi, lì è opportuno che sia l'insegnante a fornire un testo a fronte. Anche un testo, diciamo, non tradotto in modo letterale. Perché lì è importante proprio il contenuto, comprendere il contenuto. Questa seconda attività, vi dicevo, può durare anche 30 minuti. È importante, insisto sulla gestione del tempo. Perché la gestione del tempo è qualcosa che crea tantissima ansia nei ragazzi. E quindi, insegnare loro a gestire il tempo e a dedicare a ciascuna attività un certo tempo. Attività numero tre. Analisi stilistica. Qui, naturalmente, qui dipende molto anche dal tipo di lavoro che è stato fatto in precedenza. Vedete qui, sono tre le etichette. Sono tre etichette che mirano a far rilevare come nel testo si presenti il problema della nominalizzazione. Di uno stile che si serve moltissimo degli infiniti. Infatti, vedete che la prima etichetta da andare ad apporre è quella degli infiniti sostantivati. E poi, secondo un procedere tipico della filosofia, le coppie di contrari. E infine, andare a individuare i comparativi e il secondo termine di paragone. Perché è proprio così che si sviluppa tutto il ragionamento di Aristotele. Se volete, andiamo a prendere un momento la traduzione, così la leggiamo e capiamo meglio di cosa stiamo parlando. Ecco qui. Vedete quindi come la struttura argomentativa è proprio basata su... Proprio sui comparativi. Ed è per questo che ci si chiede anche se è nella buona o nella cattiva sorte che si ha più bisogno di amici. Perché si pensa che chi si trova in cattive acque ha bisogno di chi gli faccia del bene. E che coloro che sono nella prosperità hanno bisogno di persone cui fare del bene. Ma è certo assurdo fare dell'uomo felice un solitario. Nessuno infatti sceglierebbe di possedere tutti i beni a costo di goderne da solo. L'uomo infatti è un essere sociale e portato per natura a vivere insieme con gli altri. Questa caratteristica quindi appartiene anche all'uomo felice. Egli infatti possiede le cose che sono buone per natura. Ed è chiaro che è meglio passare le proprie giornate insieme con amici che con persone virtuose, piuttosto che con le strane e con i primi che capitano. Dalla traduzione si capisce, si comprende meglio il perché, scusate torno alle etichette, ecco qui, il perché in sede di analisi stilistica mi sembrava rilevante non soltanto far emergere la gran quantità di infiniti sostantivati e le coppie di contrari, ma anche l'uso dei comparativi e del secondo termine di paragone. Mi sembrava che da un punto di vista dell'analisi stilistica fossero questi gli aspetti su cui conveniva e un po' soffermarsi. Quindi questo è, diciamo, un po' al confine fra l'analisi morfosintattica e l'analisi stilistica. Attività numero quattro, le parole della filosofia. Infine, un'ultima attività poteva essere quella legata proprio al lessico filosofico. E qui sono quattro i gruppi di etichette, il bene, i beni, l'articolo più l'aggettivo, cioè l'ellissi di uomo. Vedete che Aristotele parla sempre di a colui che è felice, il felice, l'amico. Ed è proprio tipico del linguaggio filosofico questo uso, questa ellissi della parola uomo e quindi il soggetto dell'azione filosofica è di volta in volta il felice, il beato, l'amico, eccetera. L'uomo ha una sola occorrenza veramente. E poi la natura, tutto ciò che viene, che è per natura, eccetera. Quindi un po' le parole della filosofia, andare a etichettare tutte queste parole. Ho messo fra i materiali e delle schede, non so se possiamo vederle, scusate un attimo, esco un attimo da qui. Esco un attimo da qui, non sono uscita. Sì, sono uscita. Esco un attimo da qui e vi faccio vedere, ecco, le... E vi faccio vedere... Sì, fra i materiali di approfondimento, quelli che pensavo, va bene, una piccola scheda su Aristotele, la vita e le opere di Aristotele, e poi una scheda sullo stile di Aristotele. Questo mi sembra importante, però credo che a questo punto devo rifare... Sì. Sì? Scusate, scusate. Ok, ricondivido. Ok, ecco qui, vi faccio vedere subito. Allora, vi dicevo, questa è la scheda che voi potete scaricare dalla piattaforma, Linda. La scheda in cui trovate, vi faccio vedere rapidamente che cosa contiene, e ne contiene un po' tutto quello che abbiamo detto. Ve lo faccio vedere fin dall'inizio, così vedete che tipo di materiale potete avere. Ecco qui la scheda. Nella scheda trovate la descrizione dell'attività, il target, la disciplina, il livello di analisi, le competenze, un po' tutti gli elementi che possono servire da un punto di vista didattico. E poi la descrizione dell'attività, molto dettagliata, di cui abbiamo parlato adesso brevemente, le fasi di lavoro, in modo dettagliato, gli obiettivi didattici... Scusate, un secondo. Gli obiettivi didattici, le etichette che abbiamo visto, quindi tutto lo schema delle attività, quello che volevo farvi vedere, in realtà il testo annotato, queste cose le abbiamo viste, quello che volevo farvi vedere, in realtà, erano i materiali di approfondimento. Ecco qui, nella scheda trovate la traduzione, naturalmente, del testo, una bibliografia molto, molto sintetica, sinceramente, proprio sul brano, e poi materiali di approfondimento su Aristotele, molto breve, vita e opere, perché ovviamente non è la sede per addentrarci in queste questioni, ma invece una scheda sullo stile di Aristotele, in cui ci sono proprio quegli aspetti che poi saranno osservati. Quindi, frequente ellissi del verbo essere, al fine di utilizzare una lingua che è tipica dei trattati scientifici, frasi brevi, costrutti secondo moduli paratattici, ampio utilizzo di aggettivi sostantivati, participi sostantivati e infiniti sostantivati, l'uso dell'articolo in sostituzione di pronome, la presenza dell'avverbio oion per introdurre comparazioni o esempi, largo impiego di particelle men e de, questa scheda non l'ho elaborata io, l'ho proprio presa di peso, infatti qui ve l'ho uscito, da un versionario, moltissimi versionari si trovano queste schede stilistiche che possono essere utili, sia per noi nel momento in cui andiamo a creare un'attività di annotazione di un testo, di un brano di versione, possono essere utili, sia proprio per i nostri studenti, per andare a comprendere che cosa bisogna andare a notare, a osservare nei vari autori che traduciamo. e quindi questo materiale di approfondimento è inserito nella scheda che voi trovate su Linda e può essere utile proprio a questi scopi. Stavo per dire un'altra cosa. No, va bene. Ah, ecco che io avevo anche... Posso tornare a guardarvi? Posso finire? Vai sul Meet, ci vedi? Ah, ecco, sono con me. Eccoci qua, sì. Sì, che io avevo anche ipotizzato tre quesiti, perché sapete che la parte di commento della seconda prova è organizzata in base a tre quesiti ai quali si può rispondere sia domanda per domanda, con le singole risposte ai vari quesiti, sia con un discorso unitario organico che però comprende al suo interno, vada a ricomprendere tutte le risposte ai quesiti. Quindi io avevo pensato ad alcuni quesiti... Ah, ecco qua, vi chiedono dove possiamo trovare i materiali di approfondimento. Proprio nella scheda che c'è sulla piattaforma. Si scaricano, infatti, Michele ha risposto. Grazie. Quindi io avevo ipotizzato proprio delle domande, delle domande dei quesiti di carattere retorico, argomentativo, stilistico su quel testo, per rispondere ai quali potesse essere utile quell'attività di annotazione che vi ho fatto vedere. Quindi il mio ragionamento è stato questo. Questa attività serve proprio a preparare gli studenti, a far capire loro cosa devono andare a osservare al fine di costruire il commento. Quindi non è un'attività mirata direttamente al commento, non potrebbero fare sull'inda direttamente il commento, ma con l'inda cosa possono fare? Possono esercitarsi a comprendere cosa devono osservare ai fini della stesura del commento. Cosa devono osservare e quando devono osservarlo? Perché naturalmente il lavoro di osservazione del lessico è poi utile anche in sede di stesura del commento. Quindi proprio questo avevo in mente quando vi parlavo della traduzione come di un processo in cui, anche se noi possiamo distinguere la fase di traduzione vera e propria, di stesura della traduzione, dalla fase di stesura del commento, in realtà sappiamo che i processi si intersecano e quindi fin dalla lettura e dall'analisi del lessico iniziale, noi possiamo già cominciare a trarre degli elementi utili per la stesura del commento. Quindi cosa andare a osservare nel testo ai fini proprio dell'interpretazione del commento? Questi elementi mi sembravano utili e mi sembra che l'inda in questo senso possa molto aiutarci a scandire le fasi, a procedere con metodo e quindi a gestire l'ansia da traduzione. L'ansia da traduzione che porta, penso che sia un'esperienza comune a noi tutti che insegniamo latino e greco, quell'ansia da traduzione che porta i nostri studenti fin dal primo momento in cui hanno davanti il foglio con la traduzione, con la versione da tradurre, a sfogliare il vocabolario alla ricerca disperata di qualche frase già pronta o di qualcosa di scritto da dover consegnare. Naturalmente la traduzione non è questo. E niente, con questo tipo di supporto della tecnologia penso che si possa procedere a un metodo di lavoro più ordinato e nello stesso tempo più efficace. Quindi... Infatti Fiorella, tra l'altro ci diceva servirebbe anche per l'italiano. Di fatti c'è, infatti ci sono tantissimi, anzi vi dico che questi scenari di latino e greco sono cose recente, il linda invece di italiano ce ne sono tantissimi altri perché abbiamo pensato adesso di renderlo anche utile per il latino e il greco e quindi per l'italiano ce ne sono tantissimi. Infatti adesso proprio puoi vedere magari la piattaforma prima di farvela provare a chi l'altra volta non c'era vi faccio vedere come scaricare questi materiali insomma, per contestualizzarli e averli all'interno. A poi vedere la piattaforma poi parliamo anche della valutazione perché naturalmente è importante avere davanti la schermata così vi faccio vedere come si può andare a valutare il tutto. Perfetto. Allora, questa è la piattaforma, ora dovreste vederla cliccando sul link che vi ho mandato in chat, arrivate qua, potete fare l'accesso naturalmente prima e quando appunto vi accedete ve li trovate su questa pagina cliccando su scenari e qui ricompare tutto il catalogo di attività già pronte. Per Fiorella e per altri interessati magari esistono già anche attività di italiano, si possono selezionare per il filtro quindi come vedete abbiamo il filtro del target scolastico ma anche la disciplina oppure la tipologia testuale cliccando sul testo argomentativo mi salteranno a cuore solo i testi argomentativi vedete che sono un bel po' tra cui tra l'altro ci sono queste di greco quindi se poi io faccio il filtro per materia otterrò le attività su quella materia come vedete non facciamo solo italiano, latino, greco ma facciamo anche lingue, storia, geografia, arte, eccetera, eccetera se voi poi andate qui sulla barra di ricerca scrivendo greco vi compaiono le quattro attività per ora sono quattro di greco una l'abbiamo fatta l'altra volta dovrebbe essere questa se non sbaglio tradurla dal greco con metodo un po' qui sul lessico e oggi invece ve ne facciamo provare un'altra per farvi vedere cliccando sull'anteprima ho accesso alla scheda didattica e mi si apre il pdf e posso tranquillamente scaricarmelo e all'interno di questa scheda è spiegata tutta la parte teorica relativa all'attività e come vedete sono già citati i materiali di approfondimento che sono in fondo quindi voi scorrendo avete tutto il vostro testo già con l'esempio di annotazione svolta correttamente e da qui poi avete il materiale di ripasso per gli studenti con tutte le tabelle che appunto Cristiana ci ha inserito per aiutare i ragazzi insomma decidete voi in base al livello in base al tipo di attività che state facendo quanti materiali fornire loro invece quali invece dare per scontate insomma comunque per chiedere loro di memorizzarli prima di arrivare a fare questa attività ecco dipende un po' dal focus che avete in mente per quell'attività poi scegliendo appunto l'attività adesso vi faccio vedere ad esempio avete le etichette che sono già organizzate come vedete per attività poi la teoria la trovate sempre nella scheda avete i testi in questo caso sono tre ma è lo stesso ripetuto perché su ognuno andranno svolte attività diverse e poi cliccando su persone si possono aggiungere gli studenti mandando loro il link o chiedendo loro di inserire il codice come tra un attimo farete anche voi così potete provare questo tipo di attività e infine cliccando su annota appunto voi potrete se volete inserire già l'annotazione di riferimento quindi fare la vostra così che poi la piattaforma possa confrontare la vostra a quella degli studenti e darvi in automatico una percentuale di me dopo vedremo anche come funziona la valutazione in questo modo per attività che sono le più oggettive quelle per intenderci che si riferiscono a elementi grammaticali che quindi non è che hanno dei gradi di opinabilità la piattaforma vi restituirà una percentuale della quale potete tenere conto per valutare altre attività come abbiamo visto ci ha mostrato Cristiano che possono essere anche i campi semantici magari lì c'è una percentuale di come dire soggettività nel senso che magari si può parlare del campo semantico delle emozioni e qualcuno può ritenere una parola più affina ad un'emozione ad un'altra oppure ritenerla una parola emotivamente connotata oppure no ecco dipende dipende un po' dal singolo alunno e quindi vedete voi quanto tenere conto di questa percentuale insomma del matching tra la vostra annotazione e quella fatta dagli studenti però è uno strumento sicuramente molto utile perché una volta che voi avete già fatto l'attività e come vedete l'attività è pronta potete cambiare il testo volendo perché questo anche si può fare non ve l'ho detto prima quindi voi potete dare questo testo di Plutarco ai ragazzi e poi rifare la stessa attività con un altro testo e quindi su testi potete aggiungere i vostri scrivendoli cioè facendo copy and call caricando un documento o un link in questo modo avrete l'attività già pronta e un testo nuovo quindi anche molto utile per fare più esercitazioni che è sempre il metodo migliore per poi ovviamente imparare il metodo quindi continuando a esercitarsi rifacendo questo esercizio più e più volte la notazione è un metodo che scientificamente provato più viene svolta più la comprensione del testo e l'analisi del testo migliora è proprio un eserciziario vedetelo così e dicevo ecco appunto l'attività è già pronta e voi caricate i vostri testi se volete farne di diversi ora direi che possiamo farvi provare a fare questa attività vi manterremo a schermo la traduzione così che non diventate matti a dover anche tradurre il testo e comunque non sentitevi giudicati è comunque un esercizio così anche per vedere cosa faranno i vostri ragazzi è sempre utile essere i primi che si mettono in gioco a fare l'esercizio e potete accedere a questo esercizio in due modi o cliccando sul link che ora Academy FM vi manderà in chat oppure accedendo una volta fatto l'accesso potete andare sulle mie attività e cliccando su annota inserite il codice che vi mettiamo a schermo quindi sotto il vostro nome in alto a destra le mie attività annota e ora vi faccio subito vedere il codice ve lo posso anche mandare tra l'altro in chat quindi o cliccando sul link oppure inserendo il codice che vedete qui se Cristiana o Matteo che è il nostro altro linguista che ci ha raggiunto mi sostituirà che io ora devo andare su un altro webinar volete condividere lo schermo per far vedere insomma anche che le varie persone entrano nell'attività e man mano che accedete insomma avete modo anche di vedere come monitorare la vostra classe perché potete appunto aggiungere gli studenti alla vostra classe e assegnare direttamente alla classe l'attività così che loro possano farla sia in classe ma perché no anche a casa come compito se sapete che hanno accesso comunque a un computer insomma quantomeno a un device quantomeno a casa sì ne approfitto per salutarvi buongiorno anche io sono un linguista di FEM insieme a Michela ringrazio Cristiana di questi webinar ti risaluto ti rivedo molto volentieri e appunto adesso sostituisco Michela che a brevissimo ci lascerà se vuoi Cristiana condivido io lo schermo o condividi tu come preferisci se puoi condividere tu lo preferisco devo ricordare ai nostri ai colleghi che troverete quattro scenari di Greco uno è quello che abbiamo fatto nel webinar precedente quello di su cui di cui parliamo oggi si chiama la seconda prova di Greco dal lessico all'analisi del testo se volete accedere diciamo in questo secondo modo che vi ha detto Michela oppure ok ecco che qualcuno si è già collegato come vedete tra l'altro potete su Linda avete la possibilità di creare o di selezionare tre attività gratuitamente e di farle a un numero infinito di studenti come vedete potete anche condividere l'attività con i docenti quindi noi tre per esempio che siamo i docenti di questa attività l'abbiamo condivita tra di noi aggiungendo appunto sempre tramite codice o link così che potete tutti e tre eventualmente magari di classi diverse o non so avete un'attività che volete far fare a più classe insomma avete un modo di monitorarla contemporaneamente con un altro strumento secondo noi molto utile posso aggiungere una cosa intanto che i nostri colleghi si collegano all'attività io l'ho già proposta naturalmente in classe ne ho proposte diverse i ragazzi sono stati entusiasti di fare questa attività per loro è stato facilissimo entrare collegarsi trovare l'attività tutta la parte tecnica è stata molto semplice sono riusciti a farla in brevissimo tempo e poi per loro è stato molto utile fare questo questo tipo di attività nel webinar precedente che era focalizzato soltanto sul lessico io non ho inserito non sono andata a valutare l'attività svolta perché mi interessava più che altro far seguire l'attività da un dibattito proprio sul lessico sull'identificazione dei sentimenti delle parole abbiamo riflettuto e discusso in modo così senza scopo di valutazione o di verifica sul lavoro fatto però invece se l'insegnante lo ritiene senz'altro si può andare a valutare il lavoro che si è svolto ok io vedo che nel frattempo vi state collegando adesso non so quanti siete però diciamo che più vi associate all'attività meglio è anche per vedere come risulta una volta fatta quindi se avete problemi ad accedere richiedete ce lo riscriveteci che vi ridiamo il codice o vi facciamo vedere se volete vi faccio rivedere dove si va voi una volta che avete fatto l'accesso andate su le mie attività e qui avrete in questo caso scusate in quanto ricevete un invito cliccate proprio qui hai un codice per partecipare a un'attività a nota e mettete il codice che vi abbiamo messo in chat adesso io guardo qui le schede che abbiamo visto prima vi ricordo le trovate sull'inland andando nel catalogo scrivendo greco nella vara di ricerca vi compaiono adesso vi fate rivedere anche Matteo scrivendo greco vi compaiono le quattro attività di greco ognuna delle quali ha una scheda di approfondimento perciò lo potete tranquillamente scaricare esatto adesso non lo vedete perché io sto condividendo no no lo vediamo ma se cliccate scheda didattica vi si apre una nuova scheda direttamente con il pdf dentro benissimo allora io vi lascio questo momento purtroppo non vedrò come è andata l'attività ma vi controllerò perché avrò modo di accedere come docente e ci rivediamo al prossimo appuntamento che è lunedì giusto alle tre e mezza sempre con iscrizione su Eventbrite alla fine dell'incontro la nostra tutor vi ricondividerà i link per Eventbrite bisogna iscriversi ad ogni singolo incontro quindi ogni volta è un'iscrizione diversa vi ricordo buon lavoro ciao Michela grazie ciao Michela grazie allora io direi che c'è qualcun altro che sta ancora provando ad accedere e non riesce come va ci sono problemi ci sono 11 credo si direi 11 persone che si sono associate all'attività come studenti allora io proporrei che adesso sono arrivato adesso quindi poi Cristiana dimmi se sbaglio ma evidentemente devono ancora annotare tutti e tutte giusto e l'attività è già stata introdotta io immagino ok benissimo scusate adesso ci sono quindi per chi si è già collegato a questa attività e vi direi che potete iniziare ad annotare se non avete già cominciato così dopo vediamo un pochino una volta annotata come si gestisce la fase diciamo post annotazione e annotate pure cioè non non abbiate paura di di sbagliare nel senso che ci è molto utile più annotate meglio è proprio anche per voi per vedere come funziona la piattaforma una volta che gli studenti hanno annotato quindi non vi preoccupate e annotate cerchiamo di farla abbastanza velocemente così che poi dopo riusciamo a fare un po' un discorso sulla gestione dell'attività appunto post annotazione degli studenti vi posso dare cosa dice Cristiana gli diamo un quarto d'ora o tanto finiamo alle 5 giusto? sì sì assolutamente benissimo allora vi diamo un quarto d'ora 20 minuti se poi ne avete bisogno per annotare con tutte le etichette che appunto sono ah sì da cellulare non è ancora possibile stiamo rilasciando la versione per mobile a breve invece sulle vecchie credenziali mi sembra strano mi dici chi era io posso contattare l'assistenza per quanto riguarda le credenziali quindi se mi dai nome e cognome posso chiedere direttamente però sì purtroppo da telefono cellulare non è ancora possibile utilizzare l'INDA perché ha bisogno di un'implementazione diversa per quanto riguarda appunto l'esperienza d'uso con lo smartphone ottimo allora adesso io contatto l'assistenza per vedere se c'è qualche problema con le tue credenziali nel frattempo gli altri appunto se vogliono iniziare ad annotare Matteo qualcuno chiedeva di avere le schede dei connettivi e delle completive saranno nel prossimo nel prossimo webinar faremo questa attività di annotazione delle dei connettivi e della tutta la parte morfosintattica in quella scheda poi ci sarà in quello scenario scaricando la scheda didattica troverete tutti i materiali di approfondimento di quello webinar lì che è pensato per questo testo stesso di Aristotele però con focus proprio sulla morfosintassi quindi non vi resta che venire lunedì esatto allora facciamo che ci risentiamo intorno ai 35-40 così diamo tempo alle persone di annotare e mi raccomando quando annotate avete un bottone in basso a destra che dice termina l'annotazione fatelo quando avete annotato tutti i testi che sono associati ad un'attività perché se lo fate dopo un testo io vedo che così qua ci sono quattro testi quindi consegnate l'attività quando avete annotato tutti e quattro i testi se poi vediamo che col tempo non ci siamo concentratevi solo sui primi e insomma vediamo dove arriviamo e ci risentiamo verso i 35-40 ok grazie a tutti Grazie a tutti. 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 per il form 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 per il